hola amigos ciao a tutti ragazzi ciao un video d'amble così in velocità senza montaggio si così distinto senza un videole no non ho fatto quel cellulare senza montaggio buttato subito online buon sabato a tutti sono per darvi un saluto noi stiamo bene siamo perché non lo sapete su una spiaggia stupenda la spiaggia della concia e siamo qua tranquilli mangiamo qua sulla spiaggia vogliamo salutarvi intanto mi fanno azzandando qualcuno i bambini stanno mangiando ma va bene lo stesso quello dei brandelli di bambini in mare stiamo benissimo tutto il posto sempre sole tanto vento ho un raffreddore che neanche si racconta ma forse non mi passerà più ormai ho perso la speranza e stiamo bene qua tutto a posto sabbia bella bianca mare bellissimo adesso qua andremo a far vedere e allora vi si voleva salutare ecco i cani sono appena passati con la bocca sporca di sangue ma non è vero e basta allora volevamo nel frattempo ovviamente la betta cosa fa non compra qualcosa in quel di Fuerteventura stamattina mi ha fatto shopping ho fatto shopping sfrenato e allora abbiamo detto approfittiamo facciamolo vedere un attimo in online cosa abbiamo preso un'ora di spiaggia o sempre se non mare sempre mare sempre mare stamattina ho fatto shopping altrimenti una cosa mi faccio vedere subito e me l'ha comprata guanni sottolinealo che fa tanto il rustico però me l'ha comprata lui stavi piangendo eh sì guardate che bello non so se si riuscirà mai a vedere si vede si vede è un anello d'argento con due corna no con delle orecchie sarebbe un gatto praticamente è troppo simpatico del leno sono troppo contenta troppo realizzata si vede ma chissà se si vedrà si vede si vede mettiamo la mano dietro come il vero youtuber nel frattempo ho mangiato un chilo di sabbia si vede si vede va avanti sto vedendo che è così eh senza montaggio senza nulla tipo live tipo diretta nel frattempo sto perdendo l'uso delle braccia ok poi guardate cosa ho preso di bello aspettate sono da Zara abbiamo trovato anche Zara si ovviamente non poteva mancare abbiamo preso due corna per la verità siamo venuti qua perché ha visto che c'era Zara se no la prima cosa un po' di orecchini troppo belli troppo troppo simpatici lunghi 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 e in fondo hanno anche delle conchine insomma parecchio marini eh parecchio belli marini si vanno anche in acqua pagati dove c'erano quanto c'erano sono troppo simpatici c'erano anche altri eh che mi piacevano molto però ma ci siamo limitati a questi ho detto tratteniamoci un pochino bellini vero poi cos'altro ho preso da Zara una fascia per capelli io sono fatta quando diventerai calva io sono fatta di fasce per capelli cappelluzzi cose varie ho usato mia nonna negli anni 30 guardate quanto è bella ma che cavolo dici è un po' puettosa e un po' super colorata anche questa l'ho presa da Zara puettosa e un po' super colorata ma chissà se mai arriverà l'audio tutto sto vento e noi magari stiamo parlando come i pesci così a power tu fai il crossover bella io farei vedere qualcos'altro ok andiamo avanti poi ho preso questa guardate che carina pagata 7 euro e 99 si ma di dove? un topolino style la beliscia la beliscia la beliscia guardate che bella una bolsa una piccola sacca con topolino davanti la faccia di topolino allucinato e dietro le mani sempre di topolino troppo bella eh molto molto contenta andiamo avanti intanto io ho perso l'uso del femore sinistro no poi la strada di Marius altra fascia per capelli tanto per cambiare non me la sono ancora provata bianca e nera tanto per cambiare quanto è carina questa è una pagata meno che da Zara 5 euro e 99 bella sembra bella sembra chiccosissima si bianca e vera bella poi l'ultima cosa poteva mancare un paio di occhiali da sole guardate che custodina il duecentesimo paio si paio 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 guardate che custodina bellina che mi hanno dato bellina in spagnolo gafas piali insomma custodina di raffia troppo bella guardate quanto sono belli 9 euro e 99 addirittura ci sono anche le istruzioni per come usarli guardate che belli perfetti direi adesso li provo non vi aspetta ma io giro così facciamo vedere il mare adesso li provo e la betta proverà gli occhiali non vi spalventate perché se toglie quelli è struccata e vi spalventerete aspettate un attimo che sta eccola come stanno sono belli carini c'è una porca figura in spiaggia con il cartellino e tutti ci stanno guardando maia non si butta via niente adesso lo cancelliamo e basta ragazzi ora vi si fa vedere il mare da vicino a livello qua a vedere ne fa tempo qui si super saluta scusate è una mano tremante va bene noi ci mangiamo banane e canaie per il pranzo sto diventando una scimmia qua albicocche e basta boh chissà se riusciremo mai a mandare online sto chissà se torneremo sto video chissà se torneremo chissà non abbiamo internet abbiamo wifi solo alla sera boh chissà qua è tutto così un po' selvaggio un po' selvaggio a maniera vado a mangiare un saluto a tutti ciao ciao